Il Comune di Minori si appresta a predisporre la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo palazzetto dello Sport, che andrà a sostituire l'attuale tendo struttura di Via Giovanni XXIII. L'opera, per la quale si prevede una spesa complessiva di 3 milioni e 700 mila euro, comprenderà un campo da basket, campi di tennis e pallavolo ed anche un campo di calcetto, che sostituirà quello ancora oggi posizionato sul fronte mare. L'amministrazione minorese ha aperto il bando per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di recupero e riorganizzazione funzionale del palazzetto dello Sport. La manifestazione di interesse, appena di esclusione, deve essere inoltrata sulla piattaforma telematica entro le ore 12 del 23 marzo. L'intervento principale interessa il recupero con riorganizzazione funzionale del palazzetto dello Sport, con contestuale realizzazione di opere finalizzate alla mitigazione della pericolosità idrogeologica presente nell'area. Si prevedono infatti il consolidamento delle opere di fondazione e di manufatti dissestati, oltre al consolidamento di pendie e di fronti rocciosi ed opere connesse. Saranno inoltre realizzati nuovi sistemi di riscaldamento, climatizzazione e trattamento dell'aria e un impianto solare termico. L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché non sono individuabili porzioni autonomamente funzionali. L'intervento rappresenta infatti un unicum dal punto di vista strutturale e impiantistico. Diversi gli sport che saranno quindi praticabili all'interno del palazzetto, primo fra tutti il basket, disciplina tra le più seguite della città, a minore infatti gioca il gruppo sportivo Minori Costa Damalfi, società sportiva di pallacanestro nata nel lontano 1970. Saranno disponibili poco più di tre mesi per presentare un progetto valido, poi partirà la richiesta per accedere ai fondi europei del PNRR che copriranno le spese. Per il sindaco Andrea Reale l'intervento da progettare rientra nel più ampio programma di riqualificazione dell'area storica di Minori. Il primo cittadino minorese è convinto che il progetto esecutivo sarà pronto in poco tempo, così da poter poi accedere ai finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera.